Allestito il cantiere delle ferrovie dello Stato per iniziare i lavori di realizzazione del sottopasso a cartecchio e dell'eliminazione dei passaggi a livello. Oggi c'è stato un primo incontro per iniziare i lavori dei sottoservizi? Sì, oggi il primo incontro fra Ferrovie dello Stato e la Telecom appunto per valutare tutti i sottoservizi che sono presenti sul nuovo cantiere. Parliamo della fibra ottica e quindi dovrà essere, stamattina c'è l'incontro in atto, valutare se va spostata o se questa fibra, così come è posizionata, non crea problemi direttamente al cantiere. Chiaramente il comune è presente perché giustamente noi, anche se non siamo parte attiva, nel senso che il cantiere chiaramente viene gestito da Ferrovie dello Stato, però siamo interessati ad essere presenti e a cercare che vada tutto nel verso giusto. E a fine mese ci sarà la rivoluzione nella circolazione vicino al cantiere? Ha detto bene, ci sarà la rivoluzione a fine mese e ci saranno sicuramente dei disagi, questo è impensabile. Abbiamo fatto il possibile, abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità, migliorando queste due alternative. Ci sarà la riapertura del guado di Carapollo e qui il sindaco è stato veramente bravo a ottenere questo. E quindi di conseguenza sono tutte cose che abbiamo fatto il possibile per togliere il maggior disagio alla gente per questo lavoro, che è un lavoro importantissimo. Grazie. 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 Grazie.